Buonasera, bentornati a un altro speciale Cronaca Aretina. Siamo tornati a casa dei coniugi Antoni, due coniugi Aretini che da anni vivono un vero e proprio calvario legato alle vicende della vecchia Banca Etruria, ma come vedremo tra poco una vicenda che anche un po' a sorpresa si è intrecciata anche con il nuovo istituto, la nuova Banca Etruria. Allora prima di parlare e di capire come si è arrivati all'assegnazione all'asta della vostra casa, facciamo una breve sintesi per chi ha perso le precedenti nostre puntate. Voi avevate un'azienda di informatica di grande successo negli anni 90, fatturato che andava insomma molto bene. Poi negli anni 2000 che succede? Nel 2008 è stato fatto un finanziamento per ricapitalizzare l'azienda, dare fiato all'azienda, pagare i fornitori come abbiamo sempre fatto, con le banche stare tranquilli, però dopo un mese questo finanziamento di 200 mila euro è scomparso. Questo finanziamento l'avevate chiesto voi o vi era stato proposto? No, è stato proposto da Banca Etruria in modo truffaldino per poter rimettere una nuova ipoteca sulla casa, in modo da crearsi un privilegio. Cioè quindi vi hanno fatto accendere un altro mutuo aziendale che sostituiva il precedente di fatto? No, perché l'altro era solamente per l'acquisto casa, era separato, questo era proprio agendale. Un mutuo aziendale che però si è trasformato non in uno strumento per avere liquidità all'azienda. No, è servito solamente alla banca per riprendersi i suoi soldi, cioè abbassare le esposizioni e basta, tutto qua. L'azienda non ha questi soldi, non gli ha avuto. Criarsi il privilegio, inattaccabili da qualsiasi procedura fallimentare, da qualsiasi cosa, crearsi il privilegio illegale naturalmente. Comunque voi pagate regolarmente legate sia della mutuo casa che del mutuo aziendale, fino a che scoprite che una rata che voi avevate pagato non risultava. Esatto, questo è successo un anno e mezzo dopo perché siamo andati poi a vedere le nostre carte, siccome ci avevano chiuso i conti in maniera rapida e abbiamo scoperto che la rata del novembre 2008 era 2009. La rata che loro incriminavano era quella del 30 aprile 2009, che non era pagata quella, e più per quanto riguarda il finanziamento aziendale. Più la rata per quanto riguarda l'acquisto casa che era del novembre 2008. Con queste due rate, una dice non pagata, quell'altra pagata in ritardo, hanno fatto un precetto velocissimo, illegale, perché non era nei termini di legge assolutamente, specialmente per il mutuo dell'acquisto casa, e quando se ne sono accorti che è successo, l'hanno strappato perché non poteva dare impulso più alla procedura. Dopo questa rata, secondo loro, non pagata, vi avevano chiesto il rientro immediato di tutto. Esatto, di tutto, però la rata è pagata, noi abbiamo la ricevuta, ma cosa è successo? Dall'estratto conto è sparito il pagamento, si sono intascati 1.524 euro. Cioè voi li avete pagati, ma non risultano? Non risultano. Ci piacerebbe la ricevuta? Certo, abbiamo regolare ricevuta, timbrata e firmata. Allora io vorrei sapere, questi 1.524 euro, chi se li ha intascati e perché? Perché noi con questa situazione ci hanno messo in un martirio orrendo. Perché poi questa situazione, il fallimento e tutto quello che è accaduto dopo, ha portato a intaccare la vostra prima casa, la vostra abitazione? Noi, era il nostro bene, fra l'altro rimanevano solo 28.000 euro da pagare, perciò era l'unico bene e ha intaccato proprio questo. Abbiamo scoperto, mi sono opposta in tutti i modi, che anche i giudici, il collegio dei giudici, quando abbiamo fatto l'opposizione per l'esecuzione immobiliare, ha detto sì, la banca ha ragione a richiedere il rientro perché voi non avete il lungo ritardo nel pagamento di una rata del 2008, del novembre, l'avevamo pagata due giorni prima. Questo mi sconcerta come cittadina perché vuol dire che i giudici, tre giudici, va bene, non sono andati a vedere la documentazione perché se la vedevano chiaramente era palese. Ci sono state una serie di aste che fino a poco tempo fa erano andate tutte riserte, tra l'altro con ribassi notevoli del valore dell'abitazione. Ci eravamo lasciati l'ultima volta, un mese fa, due mesi fa, più o meno a gennaio, in cui voi chiudevate il servizio dicendo noi non molleremo, non lasceremo la casa, perché continuavano ad arrivare le visite di chi era interessato. Si arriva poi purtroppo a marzo ad alcune offerte che arrivano. Gli ultimi giorni sono arrivate delle offerte e di conseguenza ci hanno addolorato chiaramente, anche se ritengo che sono persone che sono venute qui, sapevano tutto cosa c'era dietro, sapevano della truffa bancaria, sapevano che la casa è occupata, tante cose ma non gli ha importato niente. C'è però una questione, cioè che c'è un fascicolo, che cosa conteneva questo fascicolo con cui voi avevate fatto opposizione? Noi dal 22 settembre, quando il giudice dell'esecuzione disse di rimettere l'asta per la sesta o settima volta, con un ribasto fra l'altro eccessivo, comunque era 110 mila euro, subito i nostri avvocati fecero opposizione e chiesero la sospensione della procedura, con le varie motivazioni, insomma ora è tutto in mano agli avvocati, è stato depositato in cancelleria il 12 ottobre e noi abbiamo aspettato, perché normalmente passa un mesetto che il giudice dà poi l'udienza, abbiamo aspettato, abbiamo richiesto, e questo fascicolo è sparito dalla cancelleria, di nuovo per noi i fascicoli spariscono dalla cancelleria. E' riapparso miracolosamente i primi di, verso il 10 febbraio, il 5-10 febbraio, chiaramente il mesetto è tecnico, diciamo, e l'udienza è stata fissata per il 10 marzo, l'asta c'era il 15, vabbè, cioè non c'è più nessun tempo, perché anche se il giudice delle esecuzioni, avesse visto, cioè no, avesse, come ha detto, no, non la sospendo, noi abbiamo la possibilità poi di fare altri passi, in questo modo, dandola proprio a tre giorni prima dell'asta, ci ha precluso proprio di fare qualsiasi cosa, ovvero, sì, possiamo fare, ma la casa è già partita. Avete chiesto spiegazioni di dove era finita? E' un errore, è un errore, siamo stati sfortunati, un'altra volta, è sette anni che siamo sfortunati. E' stato un errore, i signori sono sfortunati. La procura è due anni che aveva, diciamo che aveva, una denuncia per bancarotta privilegiata, va bene? Preferenziale, che più o meno è la stessa cosa, va bene? Con tanto nomico, c'è tutto in questa denuncia, soltanto perché, impaurita perché dal tribunale non si sapeva più niente, oppure sono andata più volte a chiedere di poter un appuntamento con il dottor Rossi, e effettivamente poi ci hanno chiamato e hanno scoperto questo fascicolo. Noi in quella denuncia avevamo chiesto il sequestro preventivo dell'immobile, perché è mandato con la truffa l'asta. Quando siamo andati all'ultima udienza del 22, ora il 22 marzo, abbiamo scoperto, finora per noi procedeva Banca Etruria, ora è passata la nuova Banca Etruria. Questo è strano, perché la vostra, in teoria, formalmente, è una di quelle che erano le cosiddette passività, i crediti di sofferenza, che dovevano essere confluiti nella vecchia Banca Etruria. Infatti ci chiedevamo sempre chi agiva per mettere all'asta questa casa. E rispondevamo Banca Etruria, perché era la vecchia Banca Etruria. E quindi c'è un commissario liquidatore, invece all'udienza avete scoperto che è la nuova Banca Etruria che è subentrata. Quando il giudice delle esecuzioni ha chiesto chi era presente come legali per le banche o per i creditori, ha detto che per la nuova Banca Etruria è presente l'avvocato Toth. Io sono rimasto interdetto come la nuova Banca Etruria. Noi che cosa abbiamo a che fare con la nuova Banca Etruria? La nostra procedura è con la vecchia Banca Etruria. Altra cosa che devo dire, devo dire e lo dirò finché vivrò, io ho chiesto di pagare le mie rate a maggio del 2014, se non erro. 15. 15, a maggio del 2015. I miei soldi non erano buoni? No, l'hanno dovuta vendere. Cioè, o svendere, perché sono partite da 82 mila euro. Vi hanno già, diciamo, sostanzialmente invitato ad uscire dalla casa entro giugno? Sì, entro giugno e con maniere abbastanza brusche, proprio di dire levati di torno, in malo modo. Credo che sia una, come si può dire, per metterci paura, stare col fiato sul colo, metterci paura, pressione psicologica. Loro dovrebbero anche comprendere, perché chi l'ha comprata sa che c'era persone che ci hanno messo in mezzo a una strada. Ci vuole anche tempi tecnici, mica uno dice che non va via. Si gioca con la vita delle persone, è una vergogna. E poi l'hanno svenduta. Svendendo anche questo prezzo non hanno tutelato neanche noi sotto certi aspetti, perché è andato sotto costo. Questa è una vergogna. E ora vediamo quello che si può fare.